Morire a Mumbai per un'aritmia. Un infarto causato dall'aumento di pressione nel passare dalle vette più alte del mondo al mare. Un destino assurdo quello capitato al giovane cuoco Marco Botticelli di Cossegnano, 29 anni, il prossimo maggio. L'hanno trovato senza vita gli inservienti di un albergo dell'antica Bombay, in India, dove alloggiava dopo essere tornato da una gita lungo la catena dell'Himalaya. La causa del decesso sarebbe da attribuire a un infarto, forse generato, da una sensibilità barocettiva. Ma solo l'autopsia potrà chiarire ogni dubbio al riguardo. I familiari sono partiti stamattina alla volta di Mumbai per prelevare la salma e il comune di Cossegnano ha fatto il possibile per far pervenire al consolato tutta la documentazione ad hoc, affinché il corpo del giovane potesse essere rimpatriato prima possibile. Speriamo, dice il sindaco di Cossegnano, Roberto De Angelis, che conosceva bene la giovane vittima, di poter celebrare i funerali tra giovedì e venerdì. Per riportare il corpo di Marco in Italia sono volati in India papà Luciano e la sorella Monica, mentre mamma Giuliana non se l'è sentita troppo il dolore. Sono partiti alla volta di Mumbai anche lo zio della vittima Dino e il cognato, cioè il sindaco di Ripatransone, Paolo D'Erasmo. Nell'attesa dei parenti la salma di Marco è stata composta nell'obitorio di un ospedale vicino all'hotel, in cui il ragazzo soggiornava. Una morte improvvisa ed inattesa quella del giovane cuoco che amava viaggiare esercitando la sua professione, senza mai gravare sulle spalle dei genitori.